Ciao, secondo me è molto chiaro che in questa società troppe, troppe persone vanno all'università e si laureano. Infatti non è raro trovare 50, 100 richieste di laureati per un singolo posto di lavoro. Tanti lavori sono spariti o sottovalutati, quando in realtà questi potrebbero pagare molto di più rispetto a quelli che richiedono una laurea. Io stesso sono laureato e non guadagno molto, ma allora mi sono chiesto, se io che sono laureato guadagno così poco. Agli altri che cosa rimane? In questo video ti mostro i risultati delle mie ricerche sui 5 lavori che non hanno bisogno di una laurea e che pagano veramente tanto. Uno stipendio alto significa poter risparmere di più o aumentare lo stile di vita della propria famiglia, perciò credo che valga la pena seguire questo interessante video. Il quinto lavoro che non richiede una laurea ma ha uno stipendio alto è fare il capotreno. Tutti da piccoli abbiamo sognato di essere un capotreno e adesso possiamo diventarlo senza avere una laurea. Esistono due principali tipologie di treni, i treni passeggeri e i treni merci e queste due distinte categorie hanno due percorsi differenti per diventare capotreno. Tra i semplici requisiti ci sono avere un diploma, essere alti almeno un metro e sessanta, conoscere abbastanza bene l'inglese e dobbiamo sostenere un concorso per diventare capotreno. Alla fine del concorso saremo in grado di guadagnare ben 30.000 euro ogni anno. Il quarto lavoro più pagato che non richiede una laurea è essere un manager di una compagnia di onoranze funebri. Questo lavoro è molto più triste del precedente ma ha una sua utilità. Tra i requisiti ci sono quello di avere un diploma e poi dobbiamo avere la nostra fedina penale pulita. In più dobbiamo noleggiare un'auto e prendere uno spazio riservato per avere la nostra agenzia. C'è anche un'abilità non indifferente che è quella che dobbiamo resistere alla vista dei cadaveri. Perciò considerate bene se fare questo lavoro o meno. Uno dei vantaggi di questo mestiere è che sicuramente non rimarremo mai senza lavoro e la nostra paga potrebbe girarsi attorno ai 70.000 euro ogni anno. Sul terzo gradino del podio troviamo il manager di un'agenzia immobiliare. In questo caso torniamo su lavori più felici. Parliamo di case, parliamo di immobili. Per questo lavoro i requisiti sono abbastanza semplici e ottenibili piuttosto facilmente. Tra gli obiettivi troviamo quello di avere un diploma e frequentare un corso di formazione alla fine del quale potremo essere degli agenti immobiliari. In media questo lavoro ci consente di guadagnare fino a 70.000 euro ogni anno ma in realtà i guadagni sono potenzialmente infiniti perché otteniamo per ogni vendita una percentuale del valore dell'immobile. Al secondo posto dei lavori più pagati senza una laurea troviamo l'installatore di ascensori. Tra i requisiti ci sono quello di avere un diploma e il superamento di un corso da ascensorista e per fare questo lavoro è indispensabile sviluppare una grande attenzione alla sicurezza. Questo lavoro comporta delle grandi responsabilità nel costruire ascensori però è un'opportunità incredibile per chi non ha una laurea. Un ascensorista può arrivare a guadagnare fino a 72.000 euro ogni anno, davvero tanto. Al primo posto dei lavori che non richiedono una laurea ma sono strapagati, troviamo il controllore del traffico aereo. Il controllore del traffico aereo deve dirigere il traffico aereo, deve comunicare ai piloti l'altezza e le condizioni meteo. Per poter fare questo lavoro dobbiamo avere un diploma e superare un corso della durata di ben due anni però alla fine saremo in grado di guadagnare più di 90.000 euro in un anno. Addirittura negli Stati Uniti questo è il lavoro più pagato senza bisogno di una laurea e gli stipendi possono superare tranquillamente i 100.000 dollari l'anno. Quindi come non detto tutti questi 5 lavori fanno guadagnare molto di più della mia laurea. Magari nel lungo termine le cose cambieranno però per adesso è così. E tu? Hai una laurea? Oppure non ce l'hai e guadagni molto lo stesso? Fammi sapere nei commenti sotto al video, lascia un like e se sei nuovo sul canale iscriviti e attiva la campagna di notifica per non perderti i miei prossimi video. Grazie mille per aver guardato, noi ci vediamo al prossimo video.